Musica Questa che vi voglio suonare si chiama The Times There Are Changing I tempi stanno cambiando ed è come sicuramente parla del fatto che negli anni 60 si pensava che veramente i tempi stessero cambiando però in qualche modo credo che parli anche di lui cioè lui è arrivato e ha fatto cambiare i tempi della musica in qualche modo un pezzo famosissimo che fa così E' time to give his voice a you back Then your father starts swingin or you sing like a stone For the times, they are changing Grazie a tutti 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 Grazie a tutti